Pianco dalla gioia, pianco dalla gioia, pianco Sto per morire Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta Giaviero, Savero, Saverio, Pastore, Ale Oh, Saverio, Pastore, Ale Oh ragazzi non mi sembra vero, non mi sembra vero, non mi sembra vero Rescissione consensuale, dopo 4 anni che io spero che sono lì Che prego, che prego, che prego, che prego E blasfemo, Pastore ha rescisso Non mi sembra vero, non mi sembra vero Ragazzi non mi svegliate, non voglio essere svegliato da questo sogno Io, io 3 anni fa, facevo questo video qua Pastore è della Roma, ecco, ecco, 41.000 visualizzazioni Ero felice, ero una persona felice che ancora immagini Che pensava ancora di poter essere felice Questo qui, 3 anni fa facevo Pastore è una pippa, non ditelo mai nemmeno per sbaglio Fate schifo a pensarlo, guardate, ecco, guardate 45.000 kg in più 2 anni fa facevo un video dicendo Pastore l'hai ceduto, ma speriamo E io ero lì, ero lì E tutti, tranne Pastore, uno più uno o meno Mi hanno bloccato su Instagram Tranne Pastore, per questo lo ringrazio Da Olsen a Fazio Mi hanno bloccato tutti Fatto stacchi adesso Finalmente Pastore ha rescisso Regà, io non ce la facevo più Aggravato sul bilancio della Roma Per anni e anni e anni Beccandose 4 milioni e mezzo l'anno E non fate l'errore E non fate l'errore di dire Eh però, se a lui glieli davano Eh però Perché lui ragazzi ha rifiutato soldi Pari soldi da altre squadre Che l'avrebbero fatto giocare Per rimanere in panchina Da tre anni a questa parte A prendere soldi da noi E per sfracassarmi i coglioni A Roma Pastore Maledetto Pastore E, e la Roma La Roma lancia un comunicato Che adesso vi andrò a leggere Perché i comunicati vanno letti Vi vado a leggere il comunicato Eh della Roma su Pastore Che dice La S Roma Comunica di aver raggiunto L'accordo per la risoluzione Consensuale del contratto Per i diritti e le prestazioni sportive Di Saverio Pastore Tutto il club augura Javier De Piasse l'Anderculo Sostanzialmente Non gli dice proprio così Ma io vorrei che glielo dicesse Perché ragazzi mi dispiace Poi parleremo anche del livello tecnico E della qualità di Pastore Perché ne parleremo Io ragazzi parlo di tutto Tranquillamente Però è una recessione Che mi fa sospirare E magari proprio grazie a questa recessione Riusciremo a comprare Il centrocampista Che cercavamo di comprare Che non potevamo permetterci Perché questo si puppava Direttamente Dal tubo principale 4 milioni e mezzo di euro l'anno A parte che chi ha dato a Pastore 4 milioni e mezzo di euro l'anno È un coglione È un coglione Perché Perché ora Quando è arrivato Ero commentato Ma 4 milioni e mezzo di euro l'anno L'avrei accettati L'avrebbe accettati chiunque Non prendiamoci per il culo Ma se c'è una cosa che mi fa incazzare Adesso ve lo leggerò con enfasi È il discorso di Pastori su Instagram Del social media manager In realtà Di Pastori su Instagram Ma adesso ve lo leggo Non è semplice Per me lasciare questa società La città E questi tifosi Ora A società io non lo so Non lo so se stavi a Se stavi A parte la società Frit che ne ha dato l'altro ieri Però vabbè E non hanno fatto nient'altro Che chiederti Rescindi? No Rescindi? No E adesso? No Rescindi? No E adesso? No Che fai? Rescindi? No Rescindi? No E allora ragazzi Detto questo Detto questo Questa città sicuramente Sicuramente sono 3 anni che non fa un cazzo Sono 3 anni che sta qui a Roma A prendere lo stipendio Non vede mai il campo E quindi E quindi c'è poco da dire E questi tifosi Ora i tifosi Io non è cattiveria Ma Quando mai Hai visto i tifosi Tu Che negli ultimi 3 anni Non hai giocato mai E poi i tifosi manco ci stavano Quando è che hai sentito il calore dei tifosi Che non hai giocato mai Ragazzi Pastore il problema Non è che è una pippa Il problema di Pastore È che non ha giocato mai Perché è sempre rotto Perché è fatto di cristallo Perché non se regge in piedi Pastore è sempre rotto E non c'è niente da fare Andiamo avanti Con la consapevolezza Di non essere riuscito A corrispondere Le aspettative Che erano state riposte in me Questo assolutamente sì Questo assolutamente sì Ragazzi Il problema Lo ripeto Di Pastore A me Quello che mi ha fatto incazzare di Pastore Non è che è stato scarso sul campo Perché delle volte ha fatto anche cagare Ma una persona può funzionare Può far cagare E poi può uscire benissimo dopo Ok Il problema di Pastore È che era sempre rotto E questo Io non gliene faccio Assolutamente una colpa Pastore del fatto Che lui fosse sempre rotto Non ne ha colpe Ma penso che anche lui Si incazzasse con se stesso Guardando le sue gambe E dicendo Questo corpo è un cazzo di rottame Si arrabbiava anche lui Il problema è altro Il problema è che Però Quando c'è avuto l'opportunità Di andartene Percependogli gli stessi soldi Da altre parti Sei rimasto a Roma E hai gravato sullo stipendio Allora tu non mi puoi Poi fare questo discorso Bellissimo De core De bellezza Di felicità Quando in realtà Sotto non c'è niente Cioè ma di che cosa stiamo parlando Chi mi conosce Sa quanto ho sofferto E con quale impegno Ho lavorato Per provare a ribaltare Il mio destino Su questo Io non ho nessun tipo di dubbio Io ragazzi ho arrivato a Roma Pastoriano contentissimo Io amavo pastore del Palermo Io amavo il pastore Visto i primi anni a Parigi Poi si è un po' perso Io ve lo ripeto Non ho dubbi Che lui Ce l'ha messa tutta Per dimostrare Di poter fare altro Ma mi dà fastidio Che è rimasto È rimasto È rimasto E ha continuato Insieme a quell'altro De Fazio A rifiutare tutte le offerte Così come di Avarà A rifiutare tutte le maledette offerte Per gravare sul bilancio Della Roma Cazzo Non è stata una storia Fortunata la nostra Ma nel lasciare Sento anche di aver conservato intatto Un sentimento di rispetto E di riconoscenza Verso questa città E verso la gente Che tre anni fa Mi ha accolto con amore E entusiasmo Perché non c'è dubbio Perché non c'è dubbio Perché la città Pastore L'ho accolto veramente Con amore e con entusiasmo Noi Io in primis Io in primis Non vedevo l'ora Di vedere Pastore a Roma Ero proprio fomentato Cazzo Abbiamo preso Javier Pastore Javier Pastore Ero proprio La persona più contenta del mondo Il problema è altro Il problema È tutto quello che arriva dopo Perché la storia che è stata travagliata È stata travagliata anche Probabilmente Per colpa sua Perché se lui poi Cioè ragazzi Nessuno rifiuta lo stipendio Ok E quindi non chiedevo questo a Pastore Però quando c'era stata l'opportunità Di andare via E non si presenta quest'anno Per la prima volta Perché sono diverse Sessioni di mercato E diversi giorni Che proviamo a piazzare Pastore Tu non rifiuti qualunque cosa Tu non la rifiuti qualunque cosa Poi apprezzo alla fine Che abbia ceduto Apprezzo alla fine Che abbia scelto Di fare in rescissione consensuale Questa è la cosa Che mi fa più contento Perché comunque alla fine Si è dimostrato uomo Ha detto me ne vado Non era semplice Perché potevi continuare A percepire 4 milioni di lama Probabilmente c'ha già Non ve fate via per culo Probabilmente domani Pastore Firma con un club saudita E va a prendere la stessa cifra Però cazzo Quanto mi ha gravato sul bilancio Cazzo quanti soldi mi hai preso E la colpa è anche Di chi li ha dati quei soldi E sia chiaro Soprattutto di chi li ha dati Perché poi I soldi si danno E questo è il concetto Vi auguro di poter festeggiare presto Grandi successi Me gratto Roma La Roma E i suoi tifosi se lo meritano Si Se avesse accettato prima Se avesse accettato prima Di andar via Se avesse accettato prima Di farsi da parte Se avesse accettato prima Di non rifiutare Tutte le possibili Tutte le possibili Diciamo trattative Che avrebbero portato lui lontano Io avrei anche accettato La riconoscenza Di cui sta parlando Lui avrei accettato Tutto quello che ha detto Purtroppo Io sono molto felice Che lui lasci Roma Sono molto felice Che si nevi di culo Perché Perché non è mai stato Nulla per la Roma Perché è aggravato sul bilancio Perché è stato uno dei più grandi problemi Della disfatta della Roma Che Arrivava in semifinale di Champions E faceva la Champions Su dieci anni Otto volte Nove volte E era una Una cosa pazzesca E Pastore Insieme a Nzonzi Insieme a Schick E quei tre acquisti là Sostanzialmente Hanno distrutto la Roma E mentre Schick Magari ha accettato Di andare via Mentre Nzonzi Ha accettato sempre Di andare a giocare altrove Perché Roma non si trova bene Invece Pastore Ha rifiutato sempre Tutte le trattative A me questa è una cosa Che mi ha fatto sempre incazzare Finalmente oggi siamo liberi Finalmente oggi siamo liberi Da Pastore Adesso inizia C'è stato un avanti Pastore E inizia un dopo Pastore Dai E godo Come un porco Ciao regà Grazie a tutti Ciao a tutti